Amici di Fano TV, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo stadio Raffaele Mancini di Fano dove per la ottava giornata del campionato nazionale di lettanti in serie D, Girone F, l'Alma Juventus Fano è attesa dal confronto casalingo con il Celano Marsica Sivilla poi prova a servire Gucci, la palla è buona, Gucci, dare Gucci, Gucci, e c'è il gol, Niccolò, Gucci, l'avevamo chiamato, torna il gol Sivilla molto bene, Sivilla di sinistro, occasione gol per l'Alma, Borrelli il tiro, il gol, e il gol Davide, Borrelli Sartori che entra in aria, Sartori, lo doppio passo, Sartori ancora, entra in aria, Sartori, il tiro sul primo palo e la parata di Amabile Alma e Juventus fanno vicissima al terzo gol, intanto Borrelli prova a metà nel mezzo, Gucci, Castellani, il cross intanto c'è, attenzione, Sartori, Sartori, gran rovesciata di Sartori, Nodari, attenzione, Nodari entra in aria, fa tutto da solo, Nodari e c'è incredibilmente con la testa un giocatore bianco, bianco celeste che si immola e salva quando il direttore di Gavi dice che può passare così, finisce così, 2 a 0 per l'Alma che liquida come detto appunto la pratica nel primo quarto d'ora, con i reti di Gucci e di Borrelli Grazie. 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 Grazie a tutti